Che cosa fai qui Walter? Allora io sono un ballerino, vorrei portare una coreografia per un mio amico che si chiama Mattia, è qui con me sulla maglietta e adesso purtroppo non c'è più, per me è come un angelo custode Io e Mattia ci siamo conosciuti grazie alla breakdance, ci incontravamo sempre ad esempio alle gare, alle battle, ci trovavamo bene assieme, Mattia era una persona che aveva sempre sorriso in faccia, sento la mancanza comunque di una persona che mi è stata vicina Cioè la mia testa non l'accettavo questa cosa Quando io vedo queste figure l'associo automaticamente a Mattia Io nel momento in cui sono sul palco per me saremo io e Mattia che mi guarda Ciao! Can Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.